Esperienza, professionalità ed un'offerta varia e versatile sono le prerogative degli atelier Le Mariage che con le loro sedie a Ferrara e a Modena rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli sposi. Accanto al marchio esclusivo La Mariage che contempla realizzazioni attente alle nuove tendenze ma create con l'accortezza sartoriale di un tempo, le proposte sposa annoverano le creazioni più rinomate del panorama nazionale ed internazionale per un assortimento di oltre 500 abiti. Altrettanto varie le collezioni per lo sposo che sanno proporre delle sapienti soluzioni che coordinano l'immagine della coppia con gusto e raffinatezza. Nel contempo gli atelier Le Mariage dedicano un reparto ricco di valide alternative per gli sposi che optano per un abbigliamento meno tradizionale o per chi ricerca un abito da cerimonia contraddistinto dallo stile unico e originale delle ricorrenze più speciali.